Buongiorno, sono Sianatani e stiamo con Stefano Mozzetta, Simone Pucci e Andrea Cristofari. Secondo voi quali errori avete commesso? Non abbiamo sfruttato tutte le occasioni, abbiamo fatto parecchi di riporta, però non siamo riusciti a buttarla dentro. Sì, è stato così, purtroppo non siamo riusciti a finalizzare tutte le occasioni che ci sono capitate. Ci ha detto bene con il pareggio, ma poi a lotteria dei rigori purtroppo ci ha detto male, grande parata del portiere. Nulla da recriminare, siamo riusciti da testa un'altra parte. E secondo voi com'è stato questo torneo? È un torneo molto organizzato, fatto bene, veramente complimenti agli organizzatori. A tutti i rigori che ci hanno seguito, a camera qui. Sempre forza di voi.